L'aumento dei prezzi del gas si è fatto sentire anche a San Nazaro. Un paradosso perché qui il combustibile per il riscaldamento non arriva da forniture internazionali sottoposte agli stress dei venti di guerra, bensì dalla vicina raffineria Eni. Il paese è infatti servito da una conduttura che porta gas incondensabile, un sottoprodotto della raffinazione molto efficiente per rifornire le caldaie. L'utilizzo per il riscaldamento evita che venga bruciato come scarto con conseguenti benefici per l'ambiente e fino allo scorso anno rappresentava anche un'importante convenienza economica. Da 2006 attraverso una convenzione tra comune ed Eni il gas incondensabile ha un prezzo equiparato a quello del metano, il risparmio è sulle accise e sui costi di distribuzione. Gli avvenimenti internazionali hanno però fatto schizzare il prezzo del metano e quindi i sannazaresi stanno pagando di più anche per il loro prodotto sebbene sia di derivazione dal petrolio. Era doppiato il costo del gas, il costo a metro cubo era doppiato proprio, quindi aspettiamo con ansi di vedere la seconda bolletta, a vedere com'è. Era doppiata dagli altri anni, dagli altri anni, da quello scorso e se va avanti così non ce la facciamo più. È arrivato ottobre e novembre 387 euro e il metro cubo costa 0,77 e quindi costava 0,35 c'è stato un aumento del doppio. Mi rendo solo conto che se una bolletta l'anno scorso in questo periodo costava 100 euro, adesso ne costa 250, qualcosa ci sarà. Semplicemente, non voglio fare polemiche, io come tutti gli altri vogliamo chiederci perché. In questi giorni stanno arrivando le bollette di ottobre e novembre raddoppiate rispetto a un anno fa. Per dicembre e gennaio, il cui saldo sarà richiesto a breve, si prevedono ulteriori aumenti, sistema un ulteriore raddoppio. Non so le soluzioni, dicono che ci aiutano, ma qui non si vede niente. Ci faranno risparmiare in qualche altro modo oppure dobbiamo pagarla. È caro, non si pretende di averlo in regalo o quant'altro, ma perlomeno di avere agevolazioni agevolazioni anche solo per un prezzo un po' più decente. Ci serve aiuto perché se no qua chiudiamo la serranda. Il Comune sta portando avanti una trattativa con Eni per modificare in corsa la convenzione che lega il prezzo del gas incondensabile a quello del metano. Il problema è che per avere aiuti concreti e mitigare le centinaia di euro a famiglia di aumento si dovrebbe chiedere uno sconto milionario, ben superiore all'extra profitto che sta avendo Eni in questa fase. Il sindaco ha chiesto aiuto alla politica nazionale. Il prezzo del gas naturale è legato a certe condizioni straordinarie di mercato a cui il gas di raffineria non dovrebbe essere legato. Da qui sono incominciate delle trattative proprio con Eni per il rinnovo del contratto che noi facciamo annualmente. Abbiamo chiesto un aiuto anche da parte dei politici parlamentari per darci una mano a questa trattativa che è più politica che tecnica in quanto i margini tecnici sono molto ristretti se dobbiamo guardare, mentre è una decisione di attenzione da parte di Eni al territorio.